5 marzo, 5 marzo 2023, sto scoprendo tutti i più piccoli laghetti della Brianza, zona brughiera, briantea, ma guardate qua che incanto mi incammino verso vedere il laghetto, ve lo dico subito il nome, lo chiamano la Zocca dei Pirutit, la Zocca dei Pirutit, il laghetto della Brianza, ieri ho visto il laghetto della Mordina, oggi il mio occhio fa villa a vedere questo laghetto, bellissimo, ma nessuno mai lo scopre, un luogo così meditativo dove il verde riappare ancora più bello nell'acqua stagnante, dove c'è un oasi qui di tranquillità e di pace, dove il verde brilla ancora, rende ancora più vivace il suo senso arboreo nell'acqua, nella parte lacustre, ecco qua, ve lo dico subito, devo stare attento di no cadere dentro, è basso, ma poi dopo incontro tante tartarughe, sì, sono ripeto ancora il laghetto della Brianza, Zocca dei Pirutit, è bellissimo, peccato che alcune persone abitano a Milano e non scoprono questi luoghi così belli della Brianza, dove in questo momento mi trovo il secondo giorno a scoprire la seconda parte della Brianza, dove c'è l'altro laghetto denominato con l'appropriato nome, poi, poi, poi non ho finito, devo andare a vedere anche il laghetto azzurro, sono tre laghi qua circostanti e bisogna camminare, certo ci sono due ore di cammino, ma solo guardare questo luogo come bello, come tranquillo, qua c'era un piccolo bar col campo di gioco, di bocce, bocce, guardate che bel verde, io sono qua, in questo sentiero dove ogni tanto vedo qualcuno correre, anch'io corro nella mia mente, nell'appropriarmi di immagini visive, dell'occhio dove può cadere nel più bello lo sguardo, lo sguardo, ma guardate qua, attenzione che qua non c'è la barriera, posso scivolare, ma l'importante è far vedere ai miei amici la parte di questo laghetto che è meraviglioso con gli alberi intorno, è forma ovoidale, circolare, mentre quello di ieri è la forma di eclisse, ogni laghetto ha la sua specifica posizione per esistere, in un luogo dove esiste la meditazione e la riflessione del viandante, oggi vedo un gran bel verde, sembra primavera, altro che andare in centro Milano, a vedere il centro, io, la mia persona cade su questi posti meditativi dove possono riflettere a contatto con questi miei amici chiamati alberi, alberi.